Ciao ragazzi, oggi vediamo assieme un'arma che è già in commercio da qualche anno ma che sta vivendo la sua massima diffusione in questo periodo. La vedremo insieme scoprendo nei quali sono i dettagli, le caratteristiche tecniche e i vantaggi che la rendono così interessante. Cominciamo! Come avrete potuto vedere nella sigla oggi parliamo di ADC, marchio tutto italiano che produce armi custom destinate al settore sportivo. Nello specifico oggi vedremo un ADC modello AR9 in calibro 9x21 nel modello Competition. Iniziamo con lo spiegare cos'è il PCC. PCC è l'acronimo di Pistol Caliber Carbine ovvero carabina in calibro da pistola. Abbiamo appena detto infatti che questo è in calibro 9x21. Come potete vedere infatti a primo acchito questa arma ricalca i tratti inconfondibili di una carabina modello AR15, classico M4 per capirci. La differenza primaria però è il fatto che queste armi sono camerate in calibro 9x21 quindi in calibro da pistola. La classificazione di queste armi è quella di arma sportiva A7 tipo carabina semiautomatica. I motivi per cui queste armi stanno avendo una grande diffusione sono molteplici. In primis il fatto che con questa arma è possibile gareggiare nelle categorie, nelle discipline di tiro action con la categoria PCC appunto dove il maneggio e le tecniche che si utilizzano su queste piattaforme si scontrano con la rapidità necessaria e la necessità di essere molto precisi per poter performare bene e questo rende questo contesto assolutamente divertente e dinamico. Un altro motivo è il fatto che con questa carabina potremmo accedere a qualsiasi struttura di tiro. Camerando il calibro 9x21 infatti potremmo accedere alla linea del TSN quindi al bunker come a qualsiasi struttura di tiro cosa non sempre possibile con i calibri più grossi. Un altro aspetto molto importante è la possibilità di allenarsi, addestrare o addestrarsi con un rifle in miniatura quindi con costi assolutamente più contenuti ma uguali tecniche e procedure. Bene prima di passare alla descrizione delle caratteristiche dell'arma e alla prova a fuoco vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto è un modo gratuito e veloce per voi per dimostrarci il vostro apprezzamento verso quello che stiamo facendo. Come vi dicevo prima questa arma non è una novità sul mercato anzi è già in produzione da qualche anno e come tanti altri marchi blasonati anche ADC in questo modello utilizza dei semi lavorati forgiati per la costruzione dell'arma. Questi semi lavorati in una prima fase hanno prodotto una serie di problemi e dopo circa una quarantina di esemplari consegnati è stato deciso di sospendere la produzione è stato appurato il problema che c'era nella fase di alimentazione che è stata rivoluzionata da ADC come altri piccoli cambiamenti che andremo poi a vedere nel dettaglio e una volta rodato e insomma risolto il problema è ripresa la commercializzazione normale. Personalmente prima di fare questa video recensione mi sono preoccupato di sparare 2500 colpi circa facendo una grossolana pulizia dopo i primi 1000 colpi. Il risultato è stato un solo inceppamento dovuto tra l'altro a un errore mio a un bossolo caricato male quindi me ha colpa. Ora vedremo nel dettaglio andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche che rendono quest'arma Ready Competition. Il lower che è questa parte qua abbiamo detto essere un forgiato semilavorato. La prima cosa che notiamo è sicuramente il ponticello del grilletto non è più dritto ma maggiorato più largo e anatomico. È in polimero e consente di avere molto più spazio soprattutto per l'utilizzo con i guanti. Notiamo che l'imbocco del caricatore risulta essere ridotto proprio per consentire di accogliere i caricatori in calibro 9x21. Parliamo di caricatori Glock diffusi ed affidabili ecco perché si definisce un modello Glock compatibile. Un'altra cosa che possiamo notare subito è il comando della sicura che è disegnata a forma di picca che è lo stemma di ADC è disinseribile a 45 gradi quindi lavora con un'escursione molto molto più corta rispetto a quella classica a 90 gradi e questo la rende molto più rapida e pratica. Il gruppo di scatto e di grilletto previsto sono la versione ultra ovvero oltre ad essere già accuratizzato prevede la regolazione di scatto e precorse di scatto. Utilizza perni anti work oversize che trattenuti da viti esterne limita l'usura causata dall'attrito dovuto al rotolamento del perno stesso cosa che ne garantisce una durata e una costanza assolutamente maggiore nel tempo. Proviamo ora il peso di scatto 810 grammi 620 570 628 628 abbiamo una media di 657 grammi di scatto out of the box fucile nuovo con 2000 colpi all'attivo il reset molto contenuto dimostra che il pacchetto di scatto non è quello classico ma è palese che assieme alle altre condizioni appena viste qui si stia parlando di uno scatto pronto gara tornando al lower notiamo lo sgancio del caricatore sgancio del caricatore che è fornito già maggiorato molto tenero bene azionabile ma più altro con un'azione di sgancio molto netta l'old open invece risulta essere quello classico non maggiorato ma eventualmente sostituibile arriviamo all'impugnatura in gomma impugnatura della fab defense con un disegno molto più verticale rispetto al solito meno inclinato parliamo di circa 15 gradi di inclinazione che la rendono forse più confortevole ma sicuramente più stabile in quanto la mano non dovrà più stare in questa posizione ma sarà molto più dritta passiamo quindi al calcio che anch'esso della fab defense è regolabile in sei posizioni tramite l'azionamento di questo pulsante la parte posteriore dal calcio è dotata di questo spessore in gomma che la rende assolutamente più confortevole ma la cosa che mi piace di più in assoluto è questo angolo smussato nella parte inferiore del calcio che ne facilita assolutamente l'acquisizione e la maneggevolezza arriviamo quindi al nostro upper e quindi al cuore pulsante della nostra carabina parliamo di un sistema otturatore di canne di rampe di alimentazione cose riviste completamente nei nuovi modelli l'otturatore anche qui è un semilavorato modificato con estrattore interno e percussore a molla il comando di attivazione del nostro otturatore è formato da questa manetta di armamento con comando ambidestro maggiorato per ovviare ai problemi di alimentazioni tra le varie modifiche come dicevo prima si è resa necessaria l'eliminazione della rampa e quindi una lavorazione particolare all'imbocco della canna le canne sono completamente in acciaio inox parliamo di canne da 12 pollici e mezzo come quella di questo modello o canne più corte da 9,5 pollici la parte terminale della canna prevede una filettatura da mezzo pollice per 28 mm la classica che la rende compatibile quindi con gli accessori più comunemente venduti la canna subisce un trattamento termico che ne risalta la durezza superficiale quindi la resistenza all'usura allungando appunto la vita del prodotto in volata troviamo di serie fornito di serie questo bel compensatore a tre camere le prime due inclinate verso la parte posteriore dell'arma la tarza invece perpendicolare alla canna questo compensatore contribuisce a stabilizzare ulteriormente il movimento già contenuto dal peso stesso della canna non parliamo infatti di una classica canna leggera ma di una mid heavy che quindi è più pesante e sicuramente molto più stabile per terminare la copertura della canna è affidata a questa asta ottenuta per estrusione con un profilo slim e una slitta piccatini su tutta la lunghezza con asole specifiche per il fissaggio emlock ufficiale in questo caso ho montato un semplice red dot un red dot della toni system il modello zr4 quindi un dot da 4 moa ma rimane la possibilità di equipaggiare il nostro fucile a nostro piacimento con questo sistema col sistema rail più il sistema emlock ragazzi in occasione di questo video vi presentiamo un inedito la minigonna adc ufficiale per il modello ar9 la minigonna ufficiale è prodotta in polimero e la cosa bella è che qui non ci sono viti è quindi possibile montarla e smontarla rapidamente con un sistema di fissaggio molto solido e durevole nel tempo io ho già fatto diversi diversi montaggi e smontaggi per poterla testare la nota assolutamente positiva sono le quote e le tolleranze con le quali con le quali è stata realizzata che consentono un perfetto accoppiamento rispetto agli angoli di inserimento del caricatore vedete che la superficie della bocca di inserimento è completamente annegata e accolta dalla minigonna senza nessuno spigolo che possa creare impuntamento nella fase di inserimento del caricatore per chi fosse interessato ad acquistare questa minigonna in anteprima qui in descrizione trovate i link e le condizioni per accedere a questa promo riservata a una quindicina di pezzi bene è arrivato il momento di passare alle prove a fuoco cominciamo ok ragazzi adesso faremo qualche prova a fuoco partiamo con un lento mirato a circa 30 metri sulla carta frontale a me poi faremo qualche prova di cadenza magari qualche acquisizione sui farri partiamo con un'altra partiamo con un'altra partiamo ok ragazzi prova a 30 metri superata egregiamente non so se si riesce a vedere ma questi sono penso almeno 6-7 colpi dei 15 totali uno strappo un paio di errorini questo è il resto della rosata direi precisissima a 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 prima di concludere ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se state apprezzando quello che facciamo sappiate che per noi è veramente importante e per voi gratuito bene arrivato il momento delle conclusioni che dire io ho avuto modo di spararci più di 2000 colpi con quest'arma e ho apprezzato molto al di là del gusto estetico del fattore estetico che è una componente molto personale apprezzo molto il fatto che come dicevo all'inizio del video questa arma risulta essere un rifle in miniatura a tutti gli effetti cosa importantissima per chi vuole e deve addestrarsi con queste piattaformi d'arma e che in questa maniera può farla con un costo veramente contenuto e in qualsiasi struttura lato sportivo invece ho apprezzato tantissimo l'affidabilità in primis perché come dicevo non ho mai avuto un problema se non quel famoso colpo sfigato per colpa mia e quindi la maneggevolezza lo scatto che abbiamo visto essere re di competition realmente e l'affidabilità fanno di quest'arma il suo punto di forza nei prossimi video ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella perché vedremo degli upgrade e dei nuovi accessori dedicati a queste piattaforme dove con una spesa molto limitata contenuta si potrà stravolgere il funzionamento di quest'arma se non volete far darvi l'occasione di regalarvi questo accessorio in anteprima qui sotto in descrizione trovate tutte le indicazioni noi ci vediamo con i prossimi video ciao ragazzi ciao